benvenuti in questo nuovo video in cui devo fare vedere la porta nel deserto di gta 5 che si trova precisamente in questo punto qui che secondo alcuni dentro c'è il jetpack così ma vi dico che non c'è niente dentro perché si può vedere mettendo cos'è il cecchino vedete non c'è assolutamente niente sarà un bug del gioco un grande banca del gioco ma dentro non c'è niente lo vedete non c'è assolutamente niente si può anche vedere così guardate ma non c'è niente visto gli altri proiettili attraversano ma non c'è niente ecco qui non lo so ma devo fare vedere perché sono anche esploso comunque volevo fare vedere che non c'era appunto niente dentro quindi è inutile che dite ancora che c'è il jetpack dentro ma no non non è così per questo breve video è finito lasciate di sì like iscrivetevi al mio canale dai zamma e salve a tutti grazie a tutti